e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi giornata strana giornata strana io vi faccio vedere come mi sono svegliato io vi faccio vedere preparatevi perché poi voglio sapere la vostra voglio sapere un commento a caldo preparatevi a quello che vi sto per far vedere e ditemi cosa ne pensate ok siete pronti lo so che siete pronti chi era in l'ha già visto prima chi guarderà in differita su youtube lo vedrà e voglio un bel commento sotto a caldo mi raccomando dite cosa avreste risposto a questa cosa babam eccolo mi sono svegliato così stamattina erano le nove e mezza prendo il telefono guardo e vedo tra i commenti questo questo messaggio qui ho detto ma cosa sta succedendo vi scongiuro qualcuno mi dice poi magari è un troll io voglio sperare che sia un troll ma a prescindere era cioè secondo me non è neanche un troll in realtà perché era un messaggio arrivato ieri che eravamo in live con andrea di cripto fisco parlavamo di tasse quindi non abbiamo toccato l'argomento price action né niente e ieri era che c'era stata una piccola correzione vedete molto minore di quella di oggi tra l'altro questa qua la candela di ieri e vedevo entrare gente nel panico luca ti prego guarda il grafico dici qualcosa ma che cosa vi devo dire ragazzi sta scendendo sta correggendo cioè calma state calmi ma veramente si va nel panico per così poco ormai qualcuno mi dica cosa sta succedendo siamo in pieno bear qualcuno mi risponda per carità ragazzi io non lo so io non lo so parto dal presupposto che magari sia un troll e voglio sperarlo ma ho visto magari non lui che è un troll ma ho visto veramente gente nel panico ragazzi vi spoiler una cosa bitcoin è volatile è fatto così è una sua caratteristica quindi investite in bitcoin se credete nel suo valore futuro e siete disposti a sopportare la sua dannata volatilità se mi arrivate a dire oh mio dio siamo in pieno bear cosa succede perché sta scendendo non va bene lasciate stare bitcoin lasciate stare le cripto vi prego c'è pieno di asset in giro io non capisco perché uno deve sentirsi obbligato a investire in bitcoin e investire in cripto senza avere la minima idea di quello che sta facendo vi prego studiatelo un po basta veramente poco basta poco ci sono i nostri corsi gratuiti piuttosto tra l'altro abbiamo anche fatto la migrazione oggi su una nuova infrastruttura della piattaforma learn che è pure più veloce perché ci sono un botto di utenti nuovi partite dai corsi base corso base su bitcoin e cripto come investire in cripto e se volete avvicinarvi al trading trading corso consapevole sono gratuiti saranno in totale 5 6 ore di corsi magari qualcosa in più se vi riguardate più volte e quella è già una base ovviamente non diventerete professori universitari ma è già una base poi da cosa nasce cosa si approfondisce quant'altro però non si può investire in bitcoin in cripto comprare bitcoin e cripto senza avere la minima idea di quello che si sta facendo se no si finisce esattamente così compra il top vendi in panico appena scende del più del 3 per cento o mio dio ritracciamo è la fine e poi cosa succede magari riassorbe il ritracciamento e riparte fa un altro top e ripeti tutto il ciclo no e questa è la classica fomo come dice giustamente marco che fa sempre danni e sempre ne farà e poi magari qualcuno dice meno male che c'è questa exit liquidity perché altrimenti c'è il mercato è un gioco a somma zero se qualcuno non perde qualcuno non guadagna tendenzialmente però così siamo veramente all'assurdo quindi ragazzi datemi il vostro commento a caldo adesso li leggo sono veramente curioso di sentire così la vostra reaction fatela voi stavolta la reaction noi invece andiamo adesso ad analizzare un po la situazione che tra l'altro è in riassorbimento per il momento quindi l'inciampo di oggi è stato notevolmente ridotto vediamo poi come chiudiamo la giornata vediamo cosa c'è da guardare andiamo a vedere anche un po di dati una notizia clamorosamente bullish vi avviso vi 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 farà vi farà così shakerare un po e poi un po di cose da sapere un po di q&a così in leggerezza per chiudere la settimana sul pezzissimo che poi domani appunto ci vediamo a faenza per chi c'è invece vi ricordo abbiamo annunciato recentemente la loving party le modalità il funzionamento e quant'altro anche questa pagina ogni tanto ha il brutto vizio di andare giù perché è troppo a salita ma di fatto vi volevo annunciare adesso invece che domenica preparatevi domenica alle ore 12 e 30 ci sarà il genesis drop quindi andremo ad tra l'altro oggi mi hanno mandato i campioni di della capsule collection calzini felpa e maglietta con queste grafiche non so se l'avevate vista ma è veramente leggendaria e è spettacolare è spettacolare adesso nei prossimi giorni magari facciamo un po di unboxing un po di cose perché ve lo ve la devo far vedere e sarà disponibile ovviamente lì al al negozio di dolly noire il party è insieme è organizzato insieme a loro il giorno 26 aprile 2024 milano corso di porta ticinese qua trovate tutto insomma e l'ingresso è gratuito su invito come abbiamo detto ci saranno tre drop il primo aperto a tutti quindi chi prima arriva si prenota 200 posti e apriamo domenica alle 12 e 30 fatevi trovare pronti quindi se vi sbronzate domani sera domenica siate belli svegli siate belli sul pezzo perché 12 e 30 ci sarà il genesis drop dopodiché ci sarà il drop con i cippini quindi acquistabile in cippini chi ha più cippini quindi se lo prende e poi gli ultimi posti saranno proof of community che qualcuno già me la sta mandando ma in realtà state aspettate perché sarà l'ultimo drop per voi e si potrà appunto chiedere la partecipazione dicendo io me lo merito perché e spiegarlo noi alle gare immagini e quant'altro quindi state pronti per quel drop lì non non state a scrivere a me o a noi perché c'è il rischio che poi ce li perdiamo ricordatevi di partecipare nel momento in cui apriremo il terzo drop quindi domani scusate domenica 12 e 30 sul pezzissimo per il primo droppone per il primo droppone stavo quasi dimenticando una cosa importantissima ragazzi se siete qui anche oggi e se non siete impazziti in questo modo se non siete andati nel panico perché si spera ormai bitcoin un po lo conosciamo non so chi di voi è più o meno navigato e è qui da più tempo ma a prescindere se siete sul pezzo e non impanicati lasciate un bel like che ogni like aiuta ad assorbire i sell off siamo tornati per il momento sopra i 70 adesso vediamo come chiuderemo analizziamo gli scenari ma martellate di like questo video perché è ciò che permette a bitcoin di continuare a salire che secondo un famoso giornale è il suo peggior rischio quindi martellare ai massimali il tasto del like iscrivetevi mi raccomando se volete invece rimanere sempre sul pezzo se non siete già iscritti e non farvi prendere dal panico per l'appunto da movimenti che per bitcoin sono non dico la quotidianità ma ordinaria amministrazione se invece volete essere sul pezzo 365 giorni all'anno 7 giorni su 7 24 ore su 24 60 minuti su 60 e quant'altro il massimo che potete fare è iscrivervi al nostro canale telegram di cui trovate il link in descrizione dove pubblichiamo dati notizie quant'altro stamattina abbiamo fatto subito l'analisi abbiamo condiviso un po di dati abbiamo cercato di fare un po di riflessioni no per evitare appunto di andare nel panico e di trattare il tutto con lucidità che è la cosa migliore che si possa fare se volete essere dei nostri iscrivetevi lascio il link in descrizione completamente gratuito quindi ragazzi ora possiamo tornare a noi possiamo assolutamente tornare 366 giorni a business stile quest'anno di dici bene dici bene e da quando è cominciata la live bitcoin è già rientrato sopra i 70k e ragazzi è bitcoin è bitcoin è volatile bisogna accettarlo e amarlo per quello che è ha fatto un bel assorbimento per il momento ma infatti quello che dicevamo proprio nell'analisi di oggi anche su telegram dov'è 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 allora aspettate che ve lo ve la ricondivido perché è ancora valida e nonostante sia cambiata un po la price action è ancora assolutamente valida dicevamo beh l'inciampo stamattina ci eravamo svegliati così eccola vedete questo era il grafico di quattro ore con l'inciampo che aveva perso gli lexol tai mai che è un po la il primo livello adesso di supporto sotto i nostri piedi e avevamo visto ribadiamo pure che le zone da tenere sotto stretto controllo sono due lo vedete vero sì c'è davanti la chat però no beh l'ho messo nella parte superiore sono due i 69.000 adesso lo andiamo a vedere anche sul grafico aggiornato che se li perdiamo primo segno di debolezza i 61.000 invece confermano il costrutto di top e lì sì che cambia leggermente la struttura e si innesca il ritracciamento ad ora è avvenuta la prima condizione ma solo su time frame intraday avevamo visto le quattro ore vista la notevole estensione l'esubero di long che sono stati liquidati segati poi abbiamo visto i dati adesso li riguardiamo generano degli squeeze delle turbolenze per far considerazioni assennate è sempre bene guardare i time frame dal giornaliero in su e poi l'apertura dei mercati americani perché col discorso degli etf ovviamente c'è sempre un po più di attività durante la sessione statunitense in caso di conferma e chiusura sotto i 69.000 diventa più probabile un test dei due livelli chiave appena sotto che di fatto sono torniamo pure sul nostro grafico i due livelli chiave abbiamo la resistenza settimanale e la resistenza mensile dei 61.000 quindi tre livelli sono questi adesso abbiamo assorbito non cantiamo già vittoria perché la candela deve ancora chiudere quindi non facciamo l'errore che si poteva far stamattina al contrario no a dire oh mio dio casca tutto adesso diventare andare ancora in fomo to the moon perché abbiamo assorbito vediamo lasciam passare il weekend tanto nel weekend di solito non succedono grandi cose vediamo che struttura si va formando sicuramente la reazione della domanda è estremamente positiva per il momento perché ci riporterebbe a chiudere comunque senza aver perso nemmeno un supporto e chiaramente il discorso è semplice no i supporti che vengono ritestati e confermati mostrano forza nella struttura di price action i supporti che iniziano a venire persi iniziano a mostrare invece qualche segno di debolezza ed è il motivo per cui dicevamo questo livello 69 mila la sua perdita non è che oh mio dio ritracciamo perché comunque è il primo supporto che abbiamo no e comunque non è neanche non forma neanche un costrutto di bottom qualcuno ha detto ma questo non è già un costrutto di bottom volenti di top scusate volendo sì però cioè è su un quattro giorni di price action capito quindi è veramente poco rilevante il costrutto di top secondo me quello che dal mio punto di vista insomma non è che c'è la visione corretta e unica è la perdita dei 61 e 3 perché vedete qui avevamo quest'altro range questo blocco nel quale si è rimasti per un po bian testato sopra bian testato sotto quindi c'è stato un po di esplorazione anche al suo interno che poi abbiamo rotto vedete con questa candela di breakout che tra l'altro è originata proprio da qui andando a confermare anche la forza di questo livello dei ved del vecchio il time i a 69 mila di conseguenza proprio per farla facile perdita dei 69 mila primo segno di debolezza quindi un supporto che cede è sempre comunque un segno di debolezza anche se non è un'inversione strutturale si rientra all'interno del range quello che succede all'interno del range fa parte di un processo di consolidamento che può essere accumulazione distribuzione e poi appunto a seconda dell'esito della rottura dal range andiamo in accumulazione quindi in continuazione rialzisto oppure in distribuzione e si innesca lì sì il ritracciamento dopo aver chiuso un costrutto di top nel mezzo vedete c'è quest'altra resistenza che è minore a una resistenza settimanale perché di fatto sono i vecchi oltai mai in chiusura settimanale questi invece in chiusura mensile quindi le i livelli chiave in gioco sono questi tre vedete il mensile tac ce l'abbiamo qui questo era il settimanale e questo è quello assoluto shadow compresa 1 2 e 3 perderli tutti e 3 ritracciamento perdere il primo debolezza target principale il secondo in realtà abbiamo già testato pure il secondo e ha innescato domanda proprio lui ora come ora quindi come vedete al momento cioè se chiudessimo la candela così lo scenario sarebbe positivo perché avremmo la candela di oggi prevalenza di domanda reazione molto positiva della domanda al tentato attacco di due supporti e chiusura tutta lower shadow quindi appunto se dovessimo chiudere così sarebbe un ottimo risultato stiamo a vedere come chiuderemo perché ripeto la giornata non è ancora finita e però ecco la reazione per il momento è molto positiva vedremo anche il weekend così poi andiamo a vedere la candela settimanale che appunto se chiudi in questo modo è semplicemente una candela un po di rallentamento ma non diventa una candela di una candela bearish ecco come invece la poteva essere se c'era una shadow molto lunga qui e una chiusura qua sotto perché vedete non avremmo neanche effettivamente chiuso sopra i vecchi all time i in chiusura settimanale intendo lo sweep sarebbe stato fatto e quindi appunto potrebbe andare a innescare un po un contromovimento che va a vedere dove arriva in base a dove arriva diventa ritracciamento oppure no tutto qua dati alla mano guarda dove abbiamo l'open interest che è sceso in maniera abbastanza organica in realtà perché abbiamo visto un allora è sceso da qui in realtà qui qui no qui è strano come non è assolutamente sceso cioè questa prima questo primo drop del prezzo vedete non ha avuto impatto sull'open interest questo secondo drop invece ha spazzato via un po di open interest quindi possiamo dire che bam bam meno 6 con un drop del meno 9 meno 10 no in realtà è stato abbastanza violento allora come drop e poi si è fermato non è ancora in costruzione quindi attenzione anche a questo vediamo e riflessiamolo perché è rimasto un po indietro qui è negli ultimi minuti c'è stata sta candela qua beh comunque non è ancora particolarmente in costruzione anzi probabilmente ha segato qualche short ha squizzato qualche short perché immagino che adesso ogni tentativo no di inciampo ogni inciampo così ci saranno quelli che cercano di shortare il top e questo cosa crea sa che di liquidità ad andare a prendere per fare degli short squeeze questo è matematico pure quello e quindi lato open interest niente di rilevante per il momento un'altra cosa che potenzialmente è utile è andare a vedere giusto in a titolo proprio di dato le liquidazioni nelle ultime 24 ore per capire un po l'ammontare no del di ciò che è accaduto 678 milioni ecco perché in realtà adesso non prende dentro ieri ieri 341 milioni di long oggi 417 vedete che comunque di liquidazioni ce ne sono state abbastanza ma ultimamente in generale guardate come a partire da qua da quando c'è stato l'ultimo pump sopra i 55 mila guardate come cambia il profilo di questo grafico cioè vedete che prima c'erano tendenzialmente meno liquidazioni e poi sono iniziate ad aumentare parecchio perché perché la gente è arrivata a gamblare in leva probabilmente andando a stressare ulteriormente il mercato quindi la situazione diventa ancora di più da maneggiare con cura no erano le cose che dicevamo anche i giorni scorsi attenzione alle posizioni troppo aggressive perché basta veramente un soffio di sell off che ti innesca degli inciampi del genere non è la prima volta cioè è successo qui è successo questo giorno è successo ieri è successo oggi cioè impariamola un po sta cosa qui basta gamblare in leva in situazioni per estese è rischiosa pericolosissimo mi raccomando e questo è poi un'altra cosa dov'è 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 ma sei cintura nera di oltai mai chiaro ragazzi chiaro è ovvio è mi sonnisca voglio aprire una palestra di oltai mai è assolutamente importante un altro dato carino utile che ultimamente stiamo seguendo è questo qui del funding no effettivamente dunque fatemi vedere un dato un po più grosso un po più lungo di lunga data allora tende a surriscaldarsi abbastanza in fretta soprattutto su alcune altcoin c'era doge che era arrivato a livelli folli e poi ogni tanto vedete c'è la spazzata bam questo è il funding per chi se lo chiedesse quando si scalda vuol dire che c'è esubero di long sui perpetual quando è freddo invece la situazione è un po più diciamo nella nella media nello standard gli unici che sono rimasti freddi sono bitcoin cash non so per quale motivo no però che non c'entra con bitcoin sv tra l'altro perché ah ragazzi un'altra notizia mi stavo quasi dimenticando questa è una cosa che mi ha fatto godere mi ha fatto veramente godere quel buffone posso dirlo buffone di craig wright finalmente fuori dai piedi non ne potevo più di sentire tutte le sue storie le sue cavolate e non è l'autore del white paper non è satoshi nakamoto non è creatore di bitcoin non è l'autore del software bitcoin parole del giudice che finalmente è arrivato a dire la sentenza finale sono curioso di leggere la versione lunga e vedere tutte le assurdità che salteranno fuori tutte quelle le robe che si è inventato c'è veramente una una personaccia che non faceva altro che inquinare l'ecosistema bitcoin se è la volta buona che ce lo siamo tolti dai piedi ragazzi è da da secoli è che c'è non so chi di voi ha visto il corso bitcoin history dove abbiamo parlato della storia di bitcoin mi pare che fosse dov'è 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 era nell'anno 2016 forse o addirittura è 15 che era saltato fuori dove caspita è no qui c'era ross ulbricht le block size war tra l'altro seguitelo è bellissimo sto eccolo no no 8 dicembre 2015 craig wright inizia a entrare nella scena come una figura davvero poco raccomandabile tramite una serie di appro di affermazioni mai comprovate e che che iniziava a dire io sono stata dal 2015 c'è veramente una una piaga una piaga questa qui basta basta non vogliamo non voglio più sentirlo nominare basta basta craig wright hai rotto le scatole scusate ma mi stavo quasi dimenticando questa cosa che mi ha fatto veramente veramente godere e quindi che dire ragazzi questa è un po la situazione oggi l'unica coin che sta performando in maniera veramente fuori non è l'unica in realtà scusate bugia c'è anche avalanche e sono curioso di vedere anche gli altri layer 1 ma parlavo di solana che come vedete sta recuperando alla grande no la sua struttura di prezzo ha fatto un uno storno abbastanza da manuale vedete ha iniziato a fare un ritracciamento qui ha reagito bene la domanda su uno dei supporti principali e poi questa settimana è partito alla grandissima quindi adesso vediamo se continua no la fase di nuovi massimi e sarà interessante vedere lo sweep degli 0,0029 a tal proposito in tal caso sweep e chiusura qua sopra abbiamo il breakout e quindi la prosecuzione rialzista target successivo è la zona degli all time high contro bitcoin quindi tanta roba molta forza dimostrazione di forza e avalanche segue non so se segue in realtà oppure no ma di fatto è un discorso anche di secondo me correlazione no tra i vari layer 1 infatti ero curioso di vedere 6 perché 6 e sui sono un po e aptos forse sono un po i competitor di solana quindi ero curioso di vedere se 6 btc però dovrei guardare se stanno seguendo il trend di solana non ancora non ancora anche se vedete che insomma candela verde e volumi decisamente sopra la media quant'è no beh più 8 per cento le palle le palle ha fatto più 8 per cento in un giorno quindi è fortemente correlato sui vediamo se pure lui per far la rimozza no sui se ne sbatte non sa niente e scende e aptos apt btc vediamo pure lui non sa niente e si sta fermo no sui è quello che apparentemente sembra più correlato quindi prendiamo nota no 6 scuro che casino 6 sui fino a inventatevi dei nomi un po diversi 6 sembra quello più correlato e anche con la price action più forte tra l'altro perché anche lui è il difficile che vedete non ci sono livelli di di riferimento quindi abbiamo questo storno ma ahimè difficile dire no i supporti principali quindi l'unica l'unica cosa che abbiamo a disposizione è proprio la sua price action nuda e questa un po la situazione no anche lato al coin per il resto invece non ci sono grandi soddisfazioni ethereum è sempre fermo nel suo range immobile completamente immobile zero hype al momento nonostante non so se avete visto i dati dopo l'aggiornamento ben con è stato un successo un emerito successo oserei dire dunque dov'è mannaggia aspettate dunque qui da qualche parte c'era il fi tracker dai che ci sei lo so che ci sai dove ti trovi era qua di lato aspettate tanto ce l'ho ce l'ho salvato eccolo qua no non è vero non è questo ce l'ho salvato eccolo qua nei nella cronologia per farvi vedere come sono cambiate le fide i layer 2 dati alla mano c'è stato l'aggiornamento di arbitrum vedete bam va che roba l'unico che è rimasto su a linea e deve ancora aggiornarsi per integrare i blob che è questa nuova insomma forma di data storage su ethereum e guardate come si sono abbattuti i costi cioè guarda è impressionante no su ad esempio optimism adesso è meno di un centesimo una transazione in media su arbitrum parliamo di 8 centesimi 7 centesimi su zk sinchera 9 centesimi su base meno di un centesimo pazzesco e parliamo di un 90 e passa per cento di riduzione cioè non è roba da poco quindi tanta roba i layer 2 sono ancora imperfetti sono lontani dalla perfezione perché ci sono ancora delle componenti di centralizzazione da risolvere ma ragazzi è stato fatto un passo avanti ciclopico dal mio punto di vista in modo pulito tranquillo e senza problemi quindi niente da dire non si può fare gli hater qua è lo sviluppo sta seguendo assolutamente la sua strada bene nel mentre che bitcoin continua ad assorbire leggo un po' di vostre domandozze domandozze allora come si chiamava il sito per vedere i prezzi dei futuri lanci allora ce ne sono due c'è wales market e a evo il famigerato wales market come vedete lista pure i punti addirittura qua c'è un po' tutto vedete c'è wormhole c'è a monad questo è monad c'è già è già listato monad è monad soprattutto no mon monprotocol che cacchio è monprotocol c'è su ste robe cosa mi sto perdendo ma è possibile che appena ti giri da un'altra parte ti perdi qualcosa cioè veramente una roba folle non si può stare un attimo distratti e comunque niente qua ci sono tutti i token in pre vendita in pre market e i punti ci sono i punti di camino i punti di iggen layer etena friend tech c'è qualsiasi cosa e sua evo invece ci sono i futures quotati blast wormhole e park che non so cosa siano sincero 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 e spesso ci azzeccano tra l'altro molto molto interessante e torno da voi aspettate tac eccoci cammino quanto vale un punto e non ho ben visto fra quanto quelli in leva invocheranno l'intervento della sec contro il crollo ragazzi peggio cioè non fatevi fregare io vi prego solo di una cosa cioè abbiate abbiate veramente una strategia di approccio al mercato non fatevi fregare da questi movimenti non né dalla fomo né dalla dal panico quando inciampa una cosa sola c'è da fare non farsi fregare è importantissimo per sopravvivere cioè veramente andar nel panico con un grafico così cioè se a me raccontassero pensate in futuro a dire a qualcuno che magari è andato nel panico sei andato nel panico qui come si fa com'è possibile ma allora se vivevano il bear market del 2022 c'era la fila per lanciarsi fuori dalla finestra io non lo so ci vuole un po di 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 insomma di di spirito di tempra dai e non 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 si può andare nel panico così non fatevi fregare ve ne prego ve ne prego neanche dalla fomo è in tutti e due i versi meme su solana che si solana è diventata la meme chain è diventata praticamente la bnb chain che era nello scorso ciclo se vi ricordate adesso ci sono tutte le meme coin su solana prima erano gli airdrop poi le meme coin solana praticamente è alimentata da puro valore intrinseco no scherzi a parte però stanno facendo stanno avendo un ruolo non da poco stanno avendo un ruolo non da poco ma l'evento si può venire anche senza invito guarda la strada è pubblica ovviamente non fosse per me farei entrare tutti lo sapete è che lì poi il braccialetto dell'open bar e tutto non si può dare a tutti quindi senza invito non si può avere quello me spiace me spiace meme coin su solana devastanti svuoppa per svuopare non paghi niente lo so amico mio lo so lo so però siamo c'è veramente una una tensione c'è un sono dei top signal gli uc utilizzi ancora la defai come nello scorso bull market allora ti dico la verità la utilizzo abbastanza la utilizzo abbastanza e ho un budget dedicato praticamente a quello però non saprete mai in realtà avevamo fatto uno space su x dove avevo raccontato qualcosa e non lo saprete mai qui non ve lo dico non ve lo dico perché non si può dire cose di gen a gente che poi scrive messaggi di questo tipo non è non è assolutamente possibile figurati se uno così si mette a fare roba in defai cosa può succedere no no ragazzi non se ne parla proprio ma come lo dirò i miei figli che casa loro è stata pagata con di gen trading di cat and dog coins ti immagini che bello ma papà ma che bella villa che abbiamo come l'hai comprata e praticamente ho svuoppato dog with fat in leva 200 per e iolo iolo ed eccoci qua così funziona praticamente e vieni a fare meet up a zurigo figo sarebbe insider bar dove si parla solo di cose di gen grazie a dodge moneta etere ovviamente ovviamente ragazzi allora ho ancora una ho una notizia clamorosamente bullish di cui parlarvi e ve ne voglio parlare ma prima vi voglio ricordare un po le cose importanti di questi giorni perché ieri abbiamo lanciato il nostro software cioè annunciato scusate il software per la dichiarazione fiscale delle cripto non so se l'avete visto se siete interessati siamo io cioè noi decretto gateway cripto fisco il nostro andre e beat diver i ragazzi di non so se conoscete beat diver il portfolio manager più professionale che esista al mondo cripto quindi ha già tutta l'infrastruttura no per collegarsi ai dati eccetera eccetera e stiamo adattando il tutto no per fare la rendicontazione fiscale quindi banalmente colleghi le ipi e i wallet e in output ai i quadri rv rt come abbiamo detto il prezzo partirà da 39 euro e sarà solo a patrimonio non in base al numero di transazioni quindi transazioni limitate per tutte le fasce senza dover aumentare il prezzo che si paga e inoltre ci sarà la possibilità ad esempio di inviare il i dati no di inviare i quadri tramite un nostro ufficio di riferimento per chi non vuole pagarsi un commercialista ci sarà una vetrina di commercialisti che ne sanno di cripto che vorranno fare parte del nostro network prevedremo anche in futuro questo magari in una fase 2 una formazione anche ai commercialisti interessati a entrare in in questo giro diciamo nel mercato delle cripto insomma è un progetto molto interessante e che non vuole essere il solito software che ti spiattella lì le transazioni ma una cosa che ti semplifica la vita e che cerca di far progredire un po la situazione e insomma ci siamo dietro noi che ci conoscete cripto fisco lo conoscete bid diver li conoscete quindi l'idea è anche un po di darvi degli interlocutori che sapete un po chi sono sapete con chi vi state rivolgendo tra l'altro abbiamo aperto la wait list i social e tutto quanto se volete un 30 per cento di sconto sul primo anno iscrivetevi alla wait list che 39 euro meno 30 per cento non è affatto male io vi lascio il link cozzo qua ma a prescindere è facile il sito perché è appunto tax e quindi super super easy ragazzi bene questa è una cosa poi l'alving party lo abbiamo già detto quindi non perdetevi il primo drop domenica 12 30 perché è un evento a cui non potete mancare non è vietato mancare cioè ve ne pentirete se mancherete non perdetevi drop e ultima cosa ragazzi visto che si parla di non cadere nel panico e quant'altro se volete approcciare il mercato sul lungo termine ci sono ancora gli ultimi quattro posti per il workshop investimento che inizia venerdì prossimo la sessione a cavallo tra marzo e aprile se siete interessati appunto ultimi quattro posti a disposizione sono otto ore di lezione dal vivo con massi in questo caso con delle materiale didattico integrativo a vostra disposizione registrazioni a vostra disposizione e disponibilità di massi chiaramente durante le sessioni per fare domande e risposte qua trovate anche tutti gli argomenti se vi interessano sono un po appunto tutte le cose da conoscere per approcciare il mondo dell'investimento in cripto con consapevolezza e poterlo fare in autonomia cioè l'importante è proprio quello saperlo fare da sé senza qualcuno che ti dica fai qui fai lì fai là tutte le volte avere le competenze per fare da sé e che altro basta c'è anche il trailer se volete c'è un po tutto io vi lascio il link in descrizione detto questo prendete un bel respiro perché questa notizia è potente io l'ho letta è della settimana scorsa quindi l'ho letta un po in ritardo ma è potente il nostro amico pier debru head of quantitative research and multi assets solution a wisdom tree che è uno dei grandi fund manager fa una ricerca molto interessante questo report che si chiede quanto dovrebbe allocare un investitore neutrale alle cripto e la risposta è l'uno per cento per loro per questa ricerca allocare l'uno per cento alle cripto significa rimanere neutrali loro dicono hanno compiuto un ulteriore passo verso l'istituzionalizzazione eccetera 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 è necessario che gli investitori i gestori di portafogli sviluppino le proprie opinioni e valutino se sottoponderare o sovrapponderare sotto l'un per cento è sottoponderato secondo lui l'uno per cento è neutrale sono un asset class molto giovane eccetera 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 lui dice sarebbe facile pensare che un posizionamento neutrale corrisponda allo zero per cento e che tutto ciò che supera lo zero costituisca una sovrapponderazione tuttavia non è così e lui dice per determinar c'è tutta la ricerca insomma adesso non voglio leggervelo poi vi consiglio di leggerlo perché è veramente interessante è un po innovativa come come idea insomma anch'io anche a me ha stupito è sufficiente osservare il portafoglio di mercato il portafoglio che simula la totalità degli asset liquidi a cui gli investitori possono accedere vedete qua lo step che è stato fatto adesso ci sono dentro anche i digital assets è questa la cosa assurda nel portafoglio di mercato attuale lui mette dentro tutti gli asset esistenti e tra di essi ci sono anche le cripto e le cripto attualmente sono l'uno per cento della capitalizzazione di mercato totale quindi se uno si vuole esporre a neutralmente a tutto il mercato ci deve essere dentro anche l'uno per cento in cripto assumere una posizione neutrale significa investire l'uno per cento delle proprie attività in bitcoin e cripto valutio direi bitcoin cioè eviterei chiaramente di andare al di fuori non avrebbe senso non ci sono neanche i veicoli regolamentati in europa magari si eccetera non investire in cripto valute significa assumere un rischio asimmetrico negativo nei confronti dello spazio gli investitori stanno di fatto scommettendo attivamente contro l'asset class per agire in tal senso dovrebbero avere un attesi di investimento forte e chiara a sostegno della sottoponderazione cioè insomma parole forti un investimento short diventi diventa asimmetrico in cui la simmetria gioca a sfavore dell'investitore il rialzo è limitato mentre il ribasso è illimitato lo short in questo caso e quindi secondo lui stare sotto l'un per cento è come essere short e considerare questo aspetto ancora più importante dove dove è in una posizione long la simmetria è a favore chiaramente eccetera eccetera perché la crescita è maggiore della potenziale perdita che è se l'asset va a zero la perdita totale e la crescita invece può essere anche più di per due può essere per tre per quattro per cinque quindi rischio rendimento favorevole nel caso di asset altamente volatili come le criptovalute ancora più importante il bitcoin è stato l'asse class migliore in nove degli ultimi dodici anni in sei di questi nove anni i rendimenti sono stati superiori al cento per cento la simmetria sarebbe stata davvero positiva per un investitore che avesse scelto una sovra ponderazione è davvero negativa per chi ha preferito la sottoponderazione tali rendimenti non sono un ricordo del passato l'anno scorso lo abbiamo visto e quindi 10 conclusione se ci si limita a esaminare le caratteristiche è chiaro che possono apportare valore a un portafoglio multi asset grazie al loro potenziale di crescita alle credenziali di diversificazione e alla facilità del relativo investimento attraverso veicoli regolamentati cosa hanno fatto gli etf per gli investitori diventa sempre più difficile ignorarle con un investimento dell'uno per cento si assume una posizione neutrale pronta a cogliere i potenziali rialzi e a gestire il rischio limitando quello di ribasso a un solo punto percentuale questa è una ricerca oggettiva obiettiva e fatta bene non che dice sono il demonio sono di qua di là c'è un rischio lo si gestisce ci si espone in modo limitato ma è da idioti ignorarle e cosa vi devo dire basta niente da aggiungere cioè ha detto tutto lui ha detto tutto lui vi condivido il 2 euro al mese qui si parla ovviamente di un portafoglio di grandi capitali che si espone a tutto no e non è cioè è una visione globale no di mercato è un po come dire immaginatevi il fondo pensione il insomma appunto gli etf multi asset eccetera se allocassero l'uno per cento dei trilioni che hanno in bitcoin cioè questo è il discorso non noi che chiaramente siamo un campione particolare no abbiamo una tolleranza al rischio più alta della media un'età comunque più bassa cioè l'investitore di 60 anni non investe come quello di venti e quindi c'è tutto un tema diverso però dire che la neutralità è l'uno per cento è cioè un salto non da poco vi condivido l'articolo comunque ve lo ve lo linko qua warren buffett disapprova esatto aspettate attacca dovrebbe funzionare è arrivato l'alvin esatto altro che alvin poi c'è ovviamente chi ha allocazione in cripto del cento per cento che è una cosa abbastanza folle anche secondo me però che vedevo di e allora 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 ragazzi direi che possiamo vediamo cos'altro abbiamo di bello da dire sono già in lista bravi bravi ragazzi tutti su tatax e i pin su tatax qualcuno ci chiedeva se c'era l'air drop vi mi fate morire ve lo giuro quando seguiteci sui social mi raccomando poi tanto ve li spammo dappertutto adesso dovrebbe arrivarci anche la spunta blu su x l'abbiamo richiesta ma ilon musk ci ha detto di aspettare un po perché siamo appena nati ci sta il drop df 24 ovviamente per tutti per tutti coloro che si scrivono chiaramente l'air droppino e nicola proponeva il cashback subit cashback sugli f24 ma quello non so se si può fare andremo leggermente in perdita considerando l'entità degli f24 comunque niente ragazzi seguiteci mi raccomando state sul pezzo per ermitico da tax e che altro a ecco una news del nostro sponsor rely ha lanciato io l'ho visto l'ho provato prima a tutti gli utenti europei ormai penso proprio tutti tra l'altro provate pure il wallet lightning integrato nella loro app non custodial e è molto facile carino chiaramente c'è la prima volta che si porta i fondi da on chain a lightning c'è da pagare la fi di apertura del canale ma è una volta sola e poi c'è la fi chiaramente down chain a lightning ogni volta che si fa un trasferimento ma solo la mi viene da dire gasfi la mining fi di bitcoin mentre la fi di apertura del canale sia si fa solo all'apertura appunto del canale è molto intuitivo come wallet è molto carino e tra l'altro punto è perfettamente integrato sia con rely quindi con la possibilità di comprare vendere in euro no kyc con bonifico non custodial e quant'altro sta diventando veramente un qualcosa di fatto molto bene non solo bene ma molto bene perché già era bello prima quando potevi appunto avevi servizi di compravendita no kyc non custodial è un prodotto già eccezionale per quello in più integrando lightning è stra comodo anche proprio per per spendere no se qualcuno vuole non so acquistare poi la gift card su b3 fil anziché pagare la transazione on chain che ultimamente insomma quei 3 4 dollari ogni tanto partono si fa lightning e non si paga nulla quindi complimenti rely grazie ovviamente a rely sempre per sponsorizzare i nostri contenuti noi lo ricordiamo perché è giusto farlo e vi lascio il link in descrizione se volete scaricare l'app ricordatevi il codice gateway tutto attaccato tutto maiuscolo per avere sconto del 25 per cento sulle fee lifetime 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 solo bitcoin rely è solo bitcoin è bitcoin only è così sono massimalisti e grandi hai visto bitcoin quando quanto è sceso sì ragazzi è veramente ero ero preso dal panico ero preso dal panico sarebbe possibile prossimamente analizzare gli scenari che aprono gli etf nel futuro ma guarda ne abbiamo parlato tantissimo già e ne abbiamo parlato tantissimo non voglio neanche farvi una testa così su sugli etf che poi cioè giustamente vi annoia anche magari era un po il tema il grande tema delle degli ultimi mesi abbiamo prenotato l'aereo da palermo allora voi fate pienamente parte della proof of community ragazzi però sti ritracciamenti potrebbe farli un po più lunghi è ragazzi io io ve lo dico non chiedetelo perché prima o poi arriva il ritracciamento lungo non pensate che non arrivi quindi vi chiedo per cortesia di non dare per scontato che tutti i ritracciamenti saranno così non è possibile guardate il grafico guardate che roba è è una barra verticale unica prima o poi il ritracciamento lungo arriva e arriverà quando meno ce lo aspettiamo quindi mi raccomando non diamo mai nulla per scontato con bitcoin ve prego non era neanche un ritracciamento esatto era solo un inciampo un bip è un dip questo il ritracciamento arriverà quindi di nuovo no fomo please no fomo no fomo fomo cuffia per tutti allora ragazzi cipini cipini per tutti domenica 12 e 30 apre il genesis drop per l'alving party non perdetevelo per nessuna ragione al mondo domani magari vi faccio vedere anche i capi che sono dei campioni non sono neanche belli come quelli finali ma sono già bellissimi cipini sono veramente spettacolari mamma mia quanto sono belli troppo gasato portare contenuti dei fai prossimamente assolutamente sì assolutamente sì sto preparando un video un video dedicato io e mia moglie veniamo con la maschera di alvin ragazzi io vi giuro vi 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 regalo 10 bitcoin in testnet se lo fate 39 euro fino a che capitale allora il tutte le fasce di prezzo le facciamo uscire a breve seguici sui social di tatax e troverai tutto a tempo debito adesso un po alla volta riveliamo tutto stiamo finendo di cesellare le ultime cose un po alla volta io ho sognato la serata dell'alving party non sto scherzando spero di esserci davvero sei veramente un grande poi magari io io ho pensato che ci possono essere voler essere più di più di 500 persone in realtà ci stiamo tutti vedremo vedremo perché tra comprare il biglietto fare il check in nel tempo di volo non faccio mai in tempo per andare a comprare bitcoin al mercato di londra effettivamente sia corsi gratuiti tra live a settimana aggiornamenti giornalieri ora anche l'app per la dichiarazione semplicemente i numeri uno vogliamo fare qualcosa di utile in questo settore guarda poi non vogliamo prenderci tutto il merito è perché per l'app il merito è buona parte anche di andrea per la parte fiscale e dei ragazzi di genia per la parte di sviluppo quindi il merito è giusto che sia dato anche a chi se lo merita e però appunto me piace promuovere partecipare a queste cose perché credo che possano davvero essere utili cose utili per portare per far far passi avanti ecco all'industria in italia l'ingresso è gratuito per l'alving party assolutamente gratuito però su invito quindi non perdetevi gli inviti mi raccomando mi raccomando non dovrete pagare assolutamente nulla open bar incluso e quant'altro però per gli invitati quindi domenica 12 e 30 preparatevi al genesis drop il sito andrà giù sicuramente e via il numero totale della gente in live 75 per cento no non il 75 per cento è più o meno un 30 40 per cento in meno dell'all time i ma l'all time i è andato in fomo totale ma per il giorno degli etf non parliamone come si riscuotono i cipini ve li darò ve li darò ve li accredito io e se no dovete fare i corsi gratuiti che abbiamo sul sito e lì potete ottenere un sacco di cipini e se vi mettete avanti riuscite ad avere sicuramente i cipini sufficienti a fare il secondo drop di inviti e puoi spiegare come prendere gli inviti allora il primo drop domenica ma tu seguici sui social seguici su telegram soprattutto e su telegram quando è ora diciamo tutto quello che c'è da sapere drop per drop quindi spiegando come fare il primo domenica 12 e 30 basta ragazzi ci vediamo lunedì domani sera faenza per chi c'è ci divertiremo e adesso finisco di preparare lo speech a proposito bello il corso di massi sull'investimento mi fa strapiacere mi fa strapiacere e ebbene ebbene dai buon buon fine settimana a tutti ci vediamo lunedì no fomo e no panico mi raccomando sempre comunque buona serata e alla prossima